buon struffolotto a tutti ragazzi ed eccoci qui in un nuovo video questa volta come potete vedere lo porterò su slenderman elementari giusto? yes yes allora in mia compagnia come avete sentito c'è il standard innanzitutto lascerò il link nel suo canale in descrizione mi raccomando passateci mettete guardatevi anche i suoi video mettete mi piace e iscrivetevi detto questo questo niente allora a new day clicchiamo lounge ok allora detto questo io non ho mai giocato a slenderman quindi penso che mi piscerò caccherò un po' sotto non un po' tanto sotto comunque se a un certo punto nel video non mi sentite più chiamate al 118 qualsiasi ospedale nei paraggi e fatemi venire a prendere sì 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 facciamolo in coppa eh lo facciamo in coppa ti guidiamo a scenda allora almeno tre clicchiamo lounge ok ok 3 2 1 vai io ho cliccato ok sta accendo la barra bianca ok a me si a me la barra verde diciamo così non ti muovere fino a quando che non partiamo insieme ok ci guidiamo insieme ok mi sto caccando completamente in mano madonna mia e dai ma non ci ho mai giocato sta giocando in merda non fa niente e si sta facendo pure buio fuori quindi accendiamo la luce oddio devi spegnerla se ti muovere tanto stano te ne facciamo un altro tipo sento dei bambini non sono i bambini è una ragazza che canta ma puttana di quella zoccola che cazzo mi fate giocare a farsi al gioco aspetta se si sente il volume io lo tolgo aspetta no tu non ti senti dimmi quando si ritaccia la ragazza aspetta no tu non hai capito niente papà non hai capito aspetta dimmi quando ti quando si è completata la barra eh a parte questo è completata la barra no aspetta a parte questo non mi fa passare il volume no aspetta a parte questo non mi fa passare il volume non mi fa passare il volume la freccetta non si muove nel desktop ora a me no aspetta aiuto non fa niente gioco ea che te ne fotte dimmi quando ok allora l'ha passata vicino alle cuffie a me già si è rotta la lampadina ma vaffanculo ok non è iniziato cioè ci sei a gioca si ok vai avanti e gira la prima porta a destra ok vedi ci dovrebbe stare una finestra tipo con gli alberi ma devo correre no non puoi correre no con shift si corre però dopo un po' si stanca cammina è meglio oh ci sei dove sta la finestra bianca qua con questi alberi eh no no fai la la prima porta che ci sta a sinistra se dovrebbe stare una cattedra si e poi vedi c'è una mano schiattata con braccio si poi poi esci dalla porta qua però no quella la e gira a sinistra vedi ci stanno le macchie di sangue a terra si eh quella è la porta che sta di fronte ok ci sta un angolo lungo lo vedi si ha un corridoio lungo ok ma appena gira a destra ok gira a destra nella porta sta il primo sarchiotto lo vedi si ok prendiamone l'insieme sei pronto? come ti prendo? con il tasto a sinistro pronto? vai 3 2 1 vai ok l'ho preso 8 7 allora? ma non girarti mai indietro giovanna non girarti mai indietro vai presto ah io non mi sto dimenticando di dirti esci dalla porta quale? esci dalla porta e gira a destra e poi vai nella porta a sinistra quale porta esci dalla porta? nella porta di fronte al teddy bear no no di fronte scusa a fianco al teddy bear a sinistra eh poi? gira a destra poi nella porta a sinistra ci sei nella porta a sinistra ci sta una lavagna con delle scritte di sangue si eh vai a fianco alla porta a fianco alla lavagna ok gira a destra vedi sta solo un'unica porta e questo è un corridoio lunghissimo dove sta un teddy bear può darsi che ti compare lo slenderman appena lo prendi vedi un corridoio lungo sta in fondo lo vedi? si si davvero eh prendiamolo insieme non devi andare mai contro lo slender eh non devi andare mai contro si ci sei? si 3 2 1 prendi girati ok a me lo slender non c'è a te ci sta? no ok vai dritto cammina non correre ok oddio ho paura con il volume ci ho giocato poche volte ok non c'è lo slender adesso usci da quell'altra porta dove sta l'uomo impiccato la e gira a destra poi gira a sinistra come ti porti il percorso e vedi c'è un altro teddy bear di fronte si stanno la cattedra con una testa sulla cattedra qua diciamo eh ma non che scrivere che mi sei cagato in mano vai l'ho preso sei pronto? l'ho preso allora devo prendere? si prendilo veloce mo? mo ti esce la suoneria del pianoforte si mo? eh vai sempre dritto e gira a sinistra e esci fuori vedi le porte che vanno fuori le due porte? si deve andarci eh esci fuori eeeh appena esci fuori eeeh gira a sinistra sta lo sacchiotto si lo prendo eh ci sei già lo sacchiotto? si 3 2 1 prendi ok altri 4 muovi sempre dritto ok vai dall'altro lato delle porte si si dove fa tipo uno fontanino uno fontanino che ne so eeeh dove sta l'albero e poi l'altra porta no? dove sei venuto ah si oddio senti i bambini oddio bello i bambini che uno wow appena entri eeeh vai dritto e gira a destra è stata un'unica porta e poi sempre su questa quella porta poi giri a destra di nuovo a destra che sta un'altra porta e non c'è niente torna indietro dove sta la lavagna con le scritte sopra eh poi la porta che sta vicino di fronteci e poi sempre dritto senza girarti vai sempre dritto ok Giova come ti senti? sono un culo gira a sinistra è la prima porta che trovi gira a sinistra c'è un sacchiotto ok hai trovato? si eh prendilo 3 2 1 vai ah lo slender Giovanni lo slender ah no 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 Giovanni aiuto no oh cazzo fa il culo l'ho preso puttana no l'ho preso pure te no e corri vai continuo vai continuo ti aspetta appena finisce no oddio Giovanni non so più dove andare io mi so becca so per dire madonna appena l'ho preso mi son girare ecco ho perso davanti mi sono messo nell'angolino senza guardarla e mi sono messo io mh oh c**o che staccia per i merda eheh vai stiamo a 10 minuti quasi ne facciamo un'altra Sì, col scherzo Vai, oh Ci sta più dietro No Mi raccomando ragazzi, tanti pollicioni in su per le bestemmie che sta facendo adesso Giovanni Ostruoso Vabbè, lui di già Come cazzo, tu? Sì, ti ha mangio Giovanni, io so il quattro Non è che Ok, vici, però vediamo il numero di troppo di credito che tu hai Eh, sì Oh, il culo Dio mio Ma tu stai facendo Prendilo Vai, te ne mancano solo due, Giovanni Oh, cazzo Vaffanculo Mi ha preso Cioccolati Corri Eh, mi ha preso No, no, non voglio continuare Vaffanculo No, perché? No 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 Porca noia Stiamo a dieci minuti, stacchiamo il video, sì, dai Ok, allora Detto questo Allora, iscrivetevi Commentate Pollicioni Bombardate di mi piace Perché se no vengo a casa vostra E vi uccido perché mi avete fatto cacare in mano Voi e quello stronzo di Salvatore Allora Detto questo Lascio il suo link del canale in descrizione Tutte le sue info, insomma Allora Voi ho detto questo Niente più Vuoi aggiungere qualcosa? Eh, che lo strufano anche a casa Vabbè Vabbè Allora Vabbè, allora niente Tanto domani o dopo ne facciamo un altro Sì, sì Un altro mazzo Va bene, allora Eh, dopo Detto questo Ci salutiamo, ecco Allora Il mio prossimo video penso che O lo farò un altro su Ne farò Non lo farò Ne farò un altro su Slender Oppure Su Cut Mario Che Se volete sentire ancora le mie bestimmi Allora È il gioco più ideale Che perlomeno non fa cacare sotto Allora Detto questo Allora Io vi saluto Mi raccomando Iscrivetevi al mio Canale È quello di X Thunder Ciao ragazzi Ciao Ciao